buongiorno buongiorno ci siamo ci siamo l'occhio pecora ancora è pecorizzato al massimo adesso bisogna svegliarci e partire non è lui certo che lui lo schiso sulla tazza firmata carletto life vai guarda come schisa matematico bevi un po di schiso e l'occhio pecora già non c'è più fantastico ora già sto in formissimo ora che bel ciuffo ora si va c'è una nuova no vabbè smettila basta ma sta pieno sta pieno sta pieno di figa guarda che lavoro cane da figa guarda come ha fiutato che sta pieno in canesimo sta di sta pieno sta pieno rock sta pieno guarda sta pieno guarda mamma mia quanto sono belli da 1 a 10 adesso li lascio dormire e riposare più tardi andremo ad interagire con loro poi ragazzi è venuta pensata una cosa questa sarà una cosa epica ragazzi non vi dico niente qualcuno già provi ad immaginare che cosa potrebbe succedere o subito sia un buon lunedì intanto c'è un vento incredibile sound check ci siamo ci siamo buongiorno buongiorno si inizia la settimana si inizia la settimana sempre con la felicità che ci contraddistingue se sei un coccodrillo dillo buongiorno al vostro capitano lo facciamo un messaggino per dirmi buongiorno chi parla bravo 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 bra nonno domani tra Empoli e Fucecchio quindi vi lascio la mail se c'è qualche ragazza interessata può mandare il proprio curriculum a questa mail che vedete questa sera vi faremo sapere chi selezioneranno quindi mail 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 anche oggi allenamento fatto quanto sucrusso buongiorno 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 un cazzo ma perché ma l'unice buongiorno lei è mezzogiorno che hai detto è mezzogiorno è buongiorno 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 cardinale mio fermati è uno fa bene la quinoa ti fa bene la quinoa ti fa bene il tuo pane ti fa bene che ci sono i cosi i glutine queste cose ma quella quinoa testa di cazzo quel pane che sta di là ma io mamma non ne voglio 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 perché non ti fa male va a mangiare un po' di quinoa tangente incredibile guarda quanto è contento oggi è festa oggi è festa oggi è festa oggi è festa tangentopoli eh sì eh sì sì come ride adesso è un bacio è gara tutti i giorni è un bacio è contento e ma io nel mio bro ma io e magari quel che mi pare sarà lei che fa quel che mi pare questo è un Adventisting chi ha ragione tu hai da mangiare un pochino meno però ma che mangi ma che non mi mangiare un bel po' io ma ti mangio un bel po' io ma non mi mangiare un bel po' 50 grammi di pasta con 60 grammi di parmigiano ma che io ce il metto mai no luma mai no ce il metto lì si ma c'è le foto guarda carletto e coccodilli se volete passare sempre più tempo con noi fate swipe andate a vedere sul mio canale youtube ci sono tutte le storie e tutti i migliori video quindi fate swipe up poi avevo detto che si arriva a 100.000 entro la fine di marzo andavo a piedi da qua sono 8 km vestito da papa ad assisi ma ancora avevo poco impegno quindi fate swipe up io il vestito già l'ho preso corre corre che è successo? corre corre che è successo? sta pieno no davvero? sta pieno ma davvero? sta pieno di che? si sta pieno di che? sta pieno da sorca ma no guarda com'è com'è sta pieno ma com'è sta sorca veno com'è? pelosa poi 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 pelosa poi 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 riccia riccia poi poi com'è? pelosa riccia colore colore ci dica il colore è nero ma come è nero? ma vaffanculo no vabbè o no o no così no vai no vabbè no vabbè sta pieno sta pieno sta pieno sta pieno di figa no eccola 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 vai 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 descrivecela vai 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 com'era? morala mora come? eh? mora nera mora com'era? ma mora come? ma come una coglione no comunque è bene oggi chissà se un giorno ci sarà un po' di figa qua sotto un giorno ci sta veramente un po' di figa sotto sarebbe bello eh ma ci sta ci sta ma se ce n'è più è meglio eh tipo mo st'estate speriamo eh un po' di figa boh boh attenzione rullo di tamburi vi spiego una cosa quando dico arzughe vuoi lì che prendi la pasta fai e sughi così capito? quindi adesso passiamo anche all'esempio materiale perché la teoria ora la sapete tutti arzughe arzughe oh carzughe oh oh no no carzughe tu cazzo no che servito e riverito io ancora non ho pranzato lui prego le porto via il piatto eh eh desidera altro eh qua prego anche lei guardate cameriere ostia non hai fatto mai il cazzo no ma che è chi è o no chi è? è uno? è il figlio peto nero cucina detox by carli chiara viti integrali con pomodorini e una grattatina di parmigiano e un po' di pesto vero chi ha? buonissimo ma che sta da fare? ci vediamo delle cose belle è sicuro bellissime eh è certo bello bello per questi giorni per questi giorni chi acquista dal nostro store riceverà questa fantastica cartolina con l'autografo mio e di nonno Faustino eccolo qua che sta scrivendo fate swipe up i saluti della scorsa settimana chi ha acquistato la scorsa settimana mi può mandare lo screen dell'acquisto e io e nonno gli mandiamo il saluto direttamente su Instagram senza fare con i numeri di telefono perché dopo mi dite eh ma devi salutare questo quell'altro facciamolo da Instagram un salario un tre in forno grazie 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 ciao 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 tu sei ti vedi ti vedi ti vedi mao colprate mao 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 perdo una cosa quando mi levo il cappello sono un modello leva il cappello e diventa un modello eccolo guarda caso fa il body tecca anche lui vai vai sai che è questo se il balletto non è la Rai capito subito che sono un modello Mariano ma non è bello che gli stanno i picchiati non so bello la regalate sembri quello di paura di libero la svega adesso fa un po' la bocca non so non so fai un culato intanto è forte meno acqua no quello è il mio ormai sai che un monopattinetto così mi servirebbe da me un monopattinetto no da me un monopattinetto non mi dice no oh no oh no ma il cazzo oh no ah notto cazzo sono tornato oh no è bello mi salva il cuore oh no no quanto è contento quando torno anche nonna maria vero no affanculo ce l'hai di tutto sta di cazzo stronzo no tu sei uno stronzo ma deve metallico no ma come ho vero tra cazzo metà no fermate taglio fermate che non si fa ma così si taglia fermate che tu sei una carogna tu non sei capace a tagliarlo così dai ma non ha gianco l'indulana fermate guarda che bel pellicano senti che bel pellicano fermate fermate che mi fa male che bel pellicano guarda che bel pellicano che rossetto ti sei messo dove devi andare oggi no io metto sempre sempre te lo metti la massima la massima massima arzugata non ho arzughe perché arzughe o no perché te la gusto o no dimmi perché arzughe o no o no nonno che stai a chiamare e non risponde e non dice chi è tu sei terminator ma io lo dico bene smettila però che sicuramente vedi o no che stai a fare o no o no chiapro 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 è un po' di qui perché di qui ce l'è un po' lunghe la cardinale riscogliere ti devo tagliare di qui ti devo tagliare ti devo tagliare ma io mi alza le 7 ma voglio vedere il controllo siete tutti testimoni come quando dice mangio 50 grammi di pasta per volta e come no quanti ne mani quanti erano e beh di quanti risacolto quanti era quanti grammi di pasta erano di Italia che ne fa lì e oggi quanta pasta mani voci di corridoio dicono 60 ma io ci credo poco e certo intanto ho visto che il nonno si è avvantaggiato e ha firmato altre ne ha firmate di più quindi manca solo la mia firma ricordo per tutta la settimana chi acquista dal mio store riceverà queste cartoline con questa fantastica rappresentazione stanno guardando l'isola io sono in controtendenza Donny Brasco con Gerard Depardieu e Steven Segal no non è vero Al Pacino e un giovane Johnny Depp non è vero non è vero